Siamo con Edoardo Lucchetti della squadra Universo Giove. Di quest'anno quali sono? La zona playoff, proventiamo ad andare in Serie A. È una squadra vestita bene. È già il secondo anno che facciamo questo campionato. E da quanto è che la squadra gioca nel campionato MSP? Questo è il terzo anno. Abbiamo fatto tre campionati e tutte e tre le coppe stile. E i risultati? Come è andato in generale l'andamento della squadra? Secondo l'anno scorso in Serie B2. Poi siamo usciti per due anni consecutivi alla Coppa Estiva al quarti di finale. Com'è nata questa formazione? Da un gruppo di amici oppure proprio dalla volontà? Un gruppo di amici che si conoscono praticamente da sempre. Siamo cresciuti insieme e è tanto che giocavamo insieme. Soprattutto per divertirci e passare il tempo insieme. Punto di forza e il punto debole della squadra? No, naturalmente facendo novi. A parte io il punto di forza della squadra è il portiere, è veramente forte. E poi l'unità del gruppo, a parte scherzi, l'unità del gruppo è il nostro forte. Vedi entusiasmo in questa squadra? Pensi che ci siano le possibilità per, come hai detto, arrivare a playoff? Sì, noi puntiamo, ripeto, puntiamo a playoff e proprio l'amalgama della squadra che da tanti anni giochiamo insieme. C'è entusiasmo, c'è sempre voglia di fare meglio e di rinettirci. Ok. E ci sono stati degli innesti quest'anno rispetto all'anno scorso? No, siamo sempre il solito. Siamo tantissimi, infatti giriamo sempre, siamo una ventina. Quindi giocate tipo una partita ogni dieci a testa? Sì, sì, facciamo un tempo una squadra e un tempo un'altra. Ok. L'ultima domanda, cosa pensi di questo campionato di Serie B? Come lo vedi? Solamente la seconda partita. Comunque è equilibrato e ci sono due o tre squadre forti che punteranno. Se dovessi fare un pronostico qual è la squadra che magari anche per conoscenza nel senso... Un diverso gioco, un diverso gioco. Perfetto, grazie.